Il Cater Capodanno con Radio 2, con il concerto con la Pesce di Martino, con la trasmissione in diretta dalle 21.30, con i Vazzanicchi e i Lundini, i DJ set che seguirà e da questo punto di vista abbiamo voluto creare anche le condizioni con due punti ristoro, uno alla palestra del Carducci e uno al Bocciodrono, per chi, a parte tutti quelli che aderiranno, ed è importante, ai cenoni e alle cene organizzate, ai ristoranti del centro che stanno già andando molto bene in termini di prenotazioni, possano anche da Pesero, o soprattutto per chi viene fuori, con una cifra abbastanza popolare di 35 euro, poter cenare ed essere anche in tempo in piazza per l'inizio della trasmissione alle 21.30 e sicuramente poi del concerto alle 22.30. Quindi è un servizio in più che abbiamo cercato di mettere in piedi, grazie anche all'appoggio della Onlus Gulliver e di tanti volontari che renderanno possibile questo piccolo miracolo logistico di far finire un cenone di Capodanno alle 22.30 invece che all'infinito e che invece servirà molto per poter fare in modo che il pubblico possa fruire di questa bellissima serata che avrà anche un risvolto legato ovviamente ai temi internazionali, ai temi della pace, in particolar modo con due collegamenti, uno con Donciotti della marcia di Pax Christi che si tiene a Gorizia, che sarà anche capitale europea della cultura tra due anni, e anche con Gerusalemme, con la scuola di musica Magnificat, fondata tra l'altro dal nostro, dico nostro perché cittadino onorario di Pesaro, padre Armando Pierucci, che tiene insieme bambini in particolar modo che studiano musica di religione ebraica, di religione cattolica, di religione cristiana e comunque musulmana. Quindi un bel messaggio, un momento tragico di quelle zone per fare sì che il periodo del Natale il Caporanno sia anche un messaggio rispetto alla pace. Il Cenone andrà prenotato entro il 28 per darsi la possibilità anche a livello organizzativo di corrispondere al meglio a tutte le domande.